Vuoi anche tu ottenere il per mille e tanti dati gratis all'interno di Monopoly Go? Ecco il video che fa per te Oggi infatti andiamo a vedere queste due cose assieme nello stesso video, andiamo a vedere i nuovi banner, le nuove emoji Insomma un sacco di aggiornamenti per quanto riguarda Monopoly Go Mi raccomando iscrivetevi al canale, attivate la campanella e lasciate like per non perdere i prossimi episodi Cliccate il video qua nelle schede cliccabili perché ho fatto la playlist Monopoly Go Ita per un motivo Per collezionare tutti i video e i tutorial che ho fatto all'interno di Monopoly Go in un unico posto E secondo me è molto utile ad alcuni di voi Apriamo subito l'album degli adesivi Album degli adesivi che ci dà un po' di regali fatti un po' qua un po' là a sbregel E direi di andare a schiacciare qui che quotidiana Schiacciamo riscuoti, ci prendiamo un po' i nostri biscottini che ci danno dei pacchetti regalo Mi sa che siamo arrivati ad un pacco regalo Guardiamo se il gioco ci dà un pacchetto regalo oppure ci attacchiamo come si suol dire Fatemi vedere subito No, non sembra succedere niente C'è semplicemente l'evento, il torneozzo Che come al solito una volta partecipato ti dà qualche giftettino Niente di così eccezionale Andiamo avanti perché abbiamo nel negozio le cose gratuite Le andiamo a prendere molto molto easy 15 dadi, 5 gettoncini rossi più pacchetto di adesivi verde Quindi pacchetto di adesivi verde ormai lo conoscete meglio di me Per quanto riguarda la cassa molti di voi mi hanno chiesto vapore di qua Vapore di là, come faccio, come non faccio Non siamo ancora arrivati, personalmente non lo sono ancora arrivato neanche io Alla cassa della terza stella Quindi alla cassa delle mille stelle Che sarà una cassa molto importante Perché devo dire che sarà la prima da mille stelle che apro Perché prima il massimo che si poteva aprire mi sembra fosse 500 Adesso l'hanno aumentata a mille In maniera veramente sgradevole Cioè per quanto mi riguarda è un po' assurdo Questo aumento così repentino di soglia Però forse si può ragionare sulle opportunità che offre una cassa al mille Potrebbe aiutarmi a sicuramente trovare qualche adesivo extra Dato che in questo momento, come sapete meglio di me Stiamo cercando di collezionare adesivi Ma non è semplice Devo dire che la verità non è assolutamente semplice Anzi E quindi lì dobbiamo assolutamente scalare pian pianino 35 dadi 5 gettoncini rossi E pacchetto d'adesivo Verde Not not bad Andiamo avanti Andiamo avanti C'è scritto 9 Perfetto Niente di così trascendentale e importante 10 Andiamo avanti col 5 Casette rosse Dai Va là dammi ste casette rosse Va là Va là dammi queste casette rosse 25 dadi mi dai Va bene Me li accollo Me li accollo Come avete visto sto spedendo un sacco di dadi Volendo poter utilizzare anche moltiplicatori E i vari trucchetti Mi inizio a spiegare il primo trucco di oggi Il primo trucco di oggi in realtà non è niente di difficile Niente di complicato Semplicemente voi avete la possibilità Reale e legale all'interno del game Di andare a disattivare la connessione Quindi io semplicemente faccio un tiro disattivando la connessione Quel tiro lì è un tiro scriptato Ok quindi è un tiro che il gioco ha già stabilito Quindi che io disattivi Che io attivi la connessione In qualsiasi caso quei dadi li perdo Però chi ha tanti dadi Può essere avvantaggiato da questa situazione Infatti io ad esempio Cosa dovrei fare a livello personale Per ottenere il massimo rendimento Utilizzando i minimi soldi e i dadi possibili Dovrei andare a disattivare la connessione Fare dei tiri senza connessione Fino a quando non ottengo quello che voglio Una volta che dico Cavolo questa è una ricompensa che voglio Ecco che a quel punto io riattivo la connessione Disattivo naturalmente il game Faccio tutte le cose che devono essere fatte Rientro nel game E però quei tiri li faccio usando il moltiplicatore Quindi dato che so che i prossimi due tiri faranno schifo Vado col per uno Se poi so che il terzo è buono Faccio due tiri col per uno E poi metto il per mille Ecco che a quel punto tu massimizzi il rendimento Andando a sprecare in realtà ben poco Ok? Queste sono tecniche che molti voi magari non conoscono Sono tecniche un po' magari più del mestiere Un po' più Un po' più di nicchia Che però sono molto molto valide E funzionano decisamente bene Assolutamente Andiamo avanti Io direi di non perdere ulteriore tempo Direi che possiamo andare avanti con le ruote Senza neanche starli a piangere Farci problematiche varie Due miliardi e mezzo Abbiamo da parte Una cosa allucinante anche lì Due miliardi e mezzo Io non so come mai ho due miliardi e mezzo Una roba fotonica Andiamo avanti Ruota colorata mi da il pacchettino verde Bene il pacchettino verde Va bene Va bene Assolutamente sì Direi che qua possiamo Andare avanti abbastanza rapidamente Non mi sto soffermando troppo su affitti Su quanto mi da ciascuna casella Non sono un tipo di player che si focalizza sul rendimento Vado sul percento So che posso farlo E ci vado dritto Nel senso che me ne frego Del rendimento Cioè di quanti dadi devo andare ad utilizzare Me ne fregavo Perché in realtà di base Non ero uno che Perdeva soldi tanto volentieri Cioè di base io sono uno che E li lascia abbastanza lì Cioè come arrivano Arrivano ecco Non voglio andare a massimizzare il rendimento Ottenere quella Quella percentuale piccolina in più Non lo so Trovo delle ottimizzazioni non eccezionali Per quanto mi riguarda Quello che però trovo eccezionale È questo esito qua Un esito clamoroso Perché con 5 miliardi e mezzo Io penso che siamo davanti al completamento Di giardini artistici Quindi direi di schiacciare velocemente Ok di non perdere Troppo in queste cose qua Ok sempre 795 milioni Mi sa che qua siamo arrivati però al limite Pensavo che con 5 miliardi e mezzo Ciò bastasse per ottenere Un rendimento con la R Maiuscola A quanto pare Non è necessario solo questo Serve quel qualcosina in più Quel qualcosina in più Si può naturalmente ottenere Ci sono varie metodologie Su come e naturalmente Quanto ottenere Ad esempio vedete qua Mi danno 300 dadi A me questi 300 dadi Ragazzi servono Oggettivamente servono Poi questi 500 Ancora di più Perché proprio mi danno La botta La botta definitiva Che potrebbe aiutarmi un sacco Poi per crescere dopo Io ad esempio sono uno Che da molto conto Al quantitativo di dadi Che puoi ottenere in maniera gratis Comunque hanno aggiunto Un sacco di banner Un sacco di cosettine Che potete andare a trovare Sui vari gruppi telegram In particolare per l'evento Di San Patrick Ve l'avevo già spoilerato Ormai da un bel po' di tempo Sarebbero arrivate Delle ricompense assurde E sono arrivate Sono arrivate Delle cose molto carine Dei bannerini un po' particolari Ma belli Che potete andare a sbloccare Insieme a queste Sono arrivate le nuove emoji Quindi chi di voi Appassionato di emoji Io personalmente Non lo sono Quindi mi sono interessato Di questo argomento Ma limitatamente Al mio interesse Ossia Ben poco Però mi sono Mi sono un attimo Sgrindellato Così ho fatto un po' di Un po' di ricerche Qua e là Ho trovato delle buone soluzioni Che secondo me Possono valerne Effettivamente la pena Attenzione che ci siamo quasi Benissimo con i moltiplicatori Stiamo andando Dicesamente bene Andiamo davanti ancora col percento Ho come la sensazione che Non mi basti Tutta questa cosa qua Che sto facendo Non mi basta ancora Perché serve quel qualcosina in più Ecco Questo potrebbe essere Quel qualcosina in più Perché con un miliardo e 119 Io spero bene Che almeno Mi sono coperto Un minimo di spese Niente Neanche questo Devo fare tutto ancora Al primo edificio Non ho veramente parole Raga Cioè Solo a me succedono queste cose Vabbè Detto questo Il video di oggi termina qua Spero che vi siate divertiti E spero come al solito Che il video vi sia piaciuto Se fosse così Like Iscrizione Attivazione della campanella E commento Dai ragazzi Ci vediamo domani Un bacione a tutti Ciao 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 Ciao